Esamineremo l'organizzazione costituzionale, lo Stato, e per poter parlare dello Stato nell'ambito dell'organizzazione costituzionale, dobbiamo fermare brevemente l'attenzione sul concetto di organizzazione e quindi di ente, organo e organizzazione. Cosa si intende per ente? Ente indica il termine qualche cosa che è, che esiste nel campo giuridico. Ora un ente nel campo giuridico indica un punto di riferimento di imputazione di diritti e di doveri e questo elemento di imputazione di diritti e di doveri diventa soggetto, diventa ente, diventa persona non fisica ma anche giuridica. Quindi l'ente ad esempio è il comune, la provincia, lo stesso Stato. L'ente è composto, come tutte le cose che esistono in natura, da vari elementi. L'ente è composto da più organi, ma a sua volta, come il corpo umano abbiamo nel corpo umano più organi. Nel campo giuridico l'organo è composto da due parti. Da un lato è chiamato l'ufficio, cioè il complesso di attribuzioni e di competenze. Dall'altro lato, sempre come organo, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche che sono inserite nell'ufficio. Quindi pensiamo ad esempio ad un organo tipo consiglio comunale. Il consiglio comunale è composto da una serie di uffici che sono un complesso di attribuzioni e di competenze e anche costituito dalle persone fisiche che operano, che lavorano nell'ambito di questo ufficio. Quindi l'organo è, per fare una sintesi molto banale, ufficio più persona fisica. Questo complesso di organi costituisce una organizzazione e quando questi organi sono nell'ambito stabiliti e disciplinati dalla costituzione abbiamo l'organizzazione costituzionale. Nell'ambito dell'organizzazione costituzionale l'ente più importante, storicamente più rilevante e ancora presente nel nostro sistema è lo Stato. La parola Stato indica con lo stesso termine sto stare, qualche cosa che è stabile, che dura nel tempo e che ha un ciclo di vita più duraturo di tutti coloro che ne fanno parte. Lo Stato ha la forza della sua stabilità e, seguendo le parole di un grande studioso francese, Tocqueville, nello Stato noi vediamo concentrate due opposte passioni degli uomini. La voglia di essere liberi, ma la necessità di essere diretti. E poi la caratteristica dello Stato è sempre legato a quello della forza, del dominio. Pensiamo ad un'opera famosa, Il Principe di Machiavelli, che inizia con le parole tutti gli stati, tutti i domini sono o repubblica o principali. Un altro studioso, siamo nel periodo successivo a Machiavelli, che si chiamava Giovanni Botero, che aveva scritto un libro chiamato La ragion di Stato, affermava che lo Stato è un dominio fermo sopra i popoli. Non aveva una concezione democratica, evidentemente rispecchiava le opinioni politiche del suo tempo, però il punto essenziale è che dominio fermo sopra i popoli. E anche nelle epoche successive, questi studiosi hanno visto nello Stato, a volte paragonato a un mostro marino, il Leviatano, e veniva usato un paragone inquietante. Lo Stato era un dio mortale che ci dà pace e riposo. Sono tutte espressioni che fanno vedere l'importanza che ha avuto per parecchio tempo e che ha ancora lo Stato, che rimane ancora oggi uno dei punti fondamentali della struttura nazionale e che bisogna esaminarlo nei suoi elementi di fondo, che sono il territorio e poi vedremo il popolo e il governo. Questi elementi dello Stato formano lo Stato, uno Stato senza territorio non è uno Stato. Un governo in esilio non costituisce uno Stato e quindi dobbiamo fermare l'attenzione, è una parte un po', non dico noiosa, ma certamente elencativa di determinati aspetti che conviene sia pure brevemente considerare. Lo Stato quindi ha necessità di un territorio che è costituito dalla terraferma, e su cui non ci sono molti problemi, dal mare territoriale e dalla piattaforma continentale e dallo spazio atmosferico del sottosuolo, nonché dalle navi e dagli aeromobili che battono bandiera dello Stato stesso. Quindi abbiamo noi tutta una serie di aspetti particolari che conviene richiamare alla memoria. Tutte queste regole sono stabilite ancora dal diritto internazionale che aveva previsto una serie di criteri specialmente per i confini tra gli Stati. Quindi se uno Stato è diviso da un altro Stato da una catena di montagne, il confine passa sulla linea dello spartiacque, cioè dalla linea che separa i deflussi delle acque più vane, oppure dalla linea delle vette più elevate. Se vi è un fiume che divide due stati, abbiamo, se il fiume è navigabile, la linea della più alta corrente, se il fiume non è navigabile, la linea mediana della corrente. Per i laghi il confine coincide con la linea retta che unisce i punti di confine degli Stati rivieraschi. Poi vi possono essere anche una serie di regole per quanto riguarda le cosiddette baie, golfi, che tutto questo stabilisce anche delle determinate linee. Questi punti di contatto tra i golfi e le baie non devono superare le 24 mila marine. Tutti questi sono aspetti tecnici che sono importanti, non incidono profondamente su quella che è l'aspetto politico, mentre invece un aspetto anche di carattere economico è quello determinato dalla piattaforma continentale. Cioè la piattaforma continentale è quella parte di sottosuolo marino attiguo alla terraferma, ma esterno al mare territoriale, che gli stati costieri rivendicano per motivi di pesca, ma specialmente per la ricerca e l'estrazione di gas e di idrocarburi. Viene chiamata anche zona economica esclusiva. Noi abbiamo una legge che ancora risale al 1967 sulla coltivazione, il termine è quello usato in modo un po' curioso dalla legge stessa, degli idrocarburi liquidi e gassosi, e considera la piattaforma sino alla profondità di 200 metri. Comunque qui bisogna ricordare soltanto cosa si intende per piattaforma continentale. Un altro aspetto invece, questo è importante, e ha determinato a volte delle conseguenze, è quello che riguarda lo spazio aereo territoriale. Si considera spazio aereo territoriale lo spazio che sovrasta il territorio della Repubblica e anche il relativo mare territoriale. Di questo bisogna poi tener conto che sono considerati a tutti gli effetti le navi mercantili italiane in alto mare e gli aeromobili che si trovano in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato. Questo è chiamato il territorio navigante. Altro problema è quello della extraterritorialità, che indica una o più porzioni di spazio, per lo più di estensione limitata, che sono considerati extra, al di fuori del territorio e quindi sottratte alla potestà dello Stato. Si tratta per lo più di situazioni disciplinate da convenzioni internazionali, pensiamo ad esempio a convenzioni con la Santa Sede, in forza delle quali alcuni edifici e loro pertinenze sono considerati extraterritoriali. Si pensi anche alle sedi diplomatiche, per le quali si parla di immunità diplomatica delle sedi. Comunque extraterritoriale sono considerati in via di massima i veicoli, navi, aeromobili e simili, che pur trovandosi nel mare territoriale e nello spazio aereo italiano, se battono bandiera straniera, sono quindi considerati territorio straniero. Si deve peraltro notare che questa materia è in fase di cambiamento, specie per i problemi che si sono verificati, non soltanto per la pirateria aerea, ma anche per i problemi del terrorismo e per l'immigrazione clandestina.